Buongiorno a tutti tatuati e brutti. Oggi vi presentiamo un quadro della linea Framed Inc realizzata dalle Tattoo e dal MAT75. Questo quadro, quest'opera rappresenta un inchiostro su tela di 24x18, un quadro dedicato a Vasco Rossi. Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco, è un cantautore italiano. È considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. Dall'inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva. Complessivamente ha scritto 191 canzoni ed oltre ad aver scritto anche numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi ed è dai primi anni 80 uno degli artisti di maggiore successo. È inoltre il primo artista italiano per numero di copie vendute dal decennio che va dal 2010 al 2019. Vasco incontra abitualmente i suoi fan regalando gli autografi su pelle, che poi verranno impressi come quello qui rappresentato. L'opera ovviamente è acquistabile e si possono acquistare anche le ristampe. Mi raccomando, mettete un like al canale, mettete il follow e dateci una mano perché stiamo costruendo il Mat 75 che sarà il museo più grande al mondo dedicato al tatuaggio. Aspettiamo anche voi!